tanto qui non mi ricordo quanto duri ancora la missione spero non troppo siamo tra l'altro siamo a 23 minuti lasciamo un po' minchia che c'entra che ho preso manco troppo pensavo molto di più che quando si gioca ragazzi il tempo vola vediamo un po qui avanti ho recuperato un po di munizioni anche per il cecchino lo ricarico elimina i diavoli che proteggono l'entrata della tana di oa ce ne vorrà qui è allora al massimo dopo salutiamo concludiamo lo finiamo quella nave a meno che vuoi pubblicarlo più lungo per me va bene sì sì dai facciamo che per questa volta la durata ecco prima vi parlavo lo vedi quell'affare lì se lo vedi stanotte era l'evento in cooperativa me lo sono dovuto affrontare da solo ecco io consiglierei di cominciare a cecchinare le gambe e di stare attenti perché quel coso spara praticamente nella direzione da qui gli arrivano i colpi fidati lo so l'ho visto stasera l'ho visto qua di animato attenzione mamma mia cerchiamo di prendere tutti la stessa zampa vi consiglio di sparare esattamente sul puntino giallo sta prendendo alla grande dobbiamo scoperchiarli quelle zampe cose so sinceramente quanto gli stia calando la vita ma non pare così tanto chi devo rianimare per me sono sempre io quello che muore non ho più colpi per il cecchino però troppo sto punto a missili attenzione sono morto ragazzi a me era i miei rimane rianimato lì come mi hai rianimato non fate il tempo a muovere e mi ha mi ha ripreso purtroppo poi quando c'è questo rientro giustamente non avete più neanche le munizioni quindi ciò che è stato sprecato questa è dark destiny mone come immune non lo so io ho sparato anch'io ma detto immune e no ancora era protetto dalla una barriera iniziale purtroppo sa che eccolo guarda che questo mi secca sognerebbe provare ad attaccarlo da da più vicino però purtroppo è pieno di nemici quindi o ci facciamo largo prima tra i loro questo tentando una tattica particolare risposta a destra e sinistra spero che questa tattica non comprenda che tra due secondi ti devo venire a rianimare perché al massimo lasciami morto no a scherzo ci verrò se sarà una zona sicura eccolo là ha questo puntatore laser davvero bastardo che come vi dicevo spara esattamente nei punti in cui da cui provengono i colpi nemici cioè quindi i nostri tanto ti ho rianimato thank you purtroppo che sono a livello sette dovrei sbloccare quell'altra bella granata che poco mi arrivano delle palline esclusive anche il nostro compagno è molto bene sono contento ce la farò a rianimarlo guarda dove si è andato a infilare infatti io ti distraggo il bestione speriamo che funzioni perché altrimenti ci secca tutte e due quello lì si infatti non ho quasi più colpi io eh nemmeno io sai ah oee addirittura ah no pensavo pensavo che gli avessimo tolto metà della vita invece no ero troppo positivo io mi sto facendo dei danni atroci ok è ora di ripararsi un po' tra poco bisognerà far fuori qualche nemico minore perché non ho più munizioni quindi 11 colpi mi sono rimasto è ora di cambiare arma eh sto ammazzando questi nemici qui davanti quindi speriamo che si hanno lasciato qualcosa ora vado eh vi è arrivato qualcosa anche a voi? no questa cosa non l'ho capita sinceramente se poi le munizioni le prendono tutti oppure no io ho trovato una tattica particolare eh ho trovato un buco dove non riesce a sparare se mi segui qua lo facciamo fuori eh io gli ho tirato una super ma mi sa che mi sta bersagliando dove sei? e quando mi vedi il posto che ho trovato è tatticissimo ah ecco allora questo gioco offre anche qualche spunto tattico o sparagli lì in mezzo che toglie un casino ottimo ottimo finiamo a sparare è un spunto tatticissimo ok abbiamo buttato giù anche l'altra zampa sparagli sul rosso lì sopra il collo si sto ricaricando eh non c'è chiapto da qui però eh bastardo non ho più colpi eccoci qua non era proprio tatticissimo eh eh vabbè però bastava magari spostarsi una quando vedi quel colpo lì se ti sposti fuori eh ma l'ha fatto subito eh io ho scelito non ho più un cazzo di colpo di niente io manco io direi un nuovo immune dai dai cerchiamo una via alternativa non lo so mi sa che l'hai trovata vero? no no io ero andato a uccidere un po' di gente perché io non ho più armi ho 40 munizioni e poi ho finito zero di tutto oh sto bastardo paranotipia grazie Bartek provando a resistere senza morire oh sono salito il livello ah no solo un potenziamento mi sembrava strano infatti ecco sbloccato controllo concentrato quindi potenzia la planata permettendoti di avere un controllo maggiore va bene ah intanto sono morto nel frattempo che faccio questa cosa bene grazie ragno gigante tanto mi sta sulle palle glielo a me spostatevi è finita da lì non è che è finita qualcosa di più allora andiamo di corpo a corpo belli piccolini e prendiamo trovo munizioni questo è molto interessante eh le ho raccolte io ho rischiato madonna mia io continuo a sparare a quella zampa in mezzo sai fetti a quanto pare perché ronzo continuando a rompere le palle a voi e fermati ah no adesso spara a me eccoci qua a posto vai ragazzi no l'ha sparata a me io ero convinto che stesse sparando a te ho detto vabbè vado a sparargli invece ce l'aveva con me guarda guarda come moriamo prenditi sta granata da stronzo e vabbè sono morto di nuovo lo stai sempre lì dietro di te ecco e purtroppo a questo livello è parecchio ostico io non so perché ma tirati da 8 l'avrei fatto a 6 ma sì anch'io l'ho fatto a un livello cioè ero molto più basso il livello e l'ho fatto sempre a livello ottimo non c'è voluto così tanto troppo e vabbè ma allora dillo boh quando fai taglia aggiungi dopo le parti delle morti porca vacca e vabbè ma i nemici piccoli nemici grossi basta un po mettiamo fai che io l'ho tirata giù pronti eh pronti a sparare in mezzo 783 783 vai se lo levano è la merda a me non mi arrivate più eh eh io sono morto parecchio se l'ho fatta a sopravvivere non lo so survival ragazzi vedrete queste morti una dopo l'altra purtroppo ce la sto facendo cioè non al meglio perlomeno ovviamente poi come sempre succede quando non registri giochi da dio quando registri è la fine ecco mi punta sempre a me anche se non gli sparo vabbè allora crede che ti vuole bene eh grazie ma questo bene qui non mi serve vabbè io me la fuggo dall'altro lato perché se no altrimenti qui dai che ci siamo dai dai purtroppo non l'ho registrata io eh ma veramente questa è pesantina eh porca miseria mi è rimasto proprio un pizzico di vita eh eh scusa non ti volevo disturbare io un po' l'ho lanciata eh è che sai cos'è che ti inganna è che lui sta girato da una parte ma i cannoni sopra puntano da tutt'altra quindi è infatti prima quando ha detto ah sta puntando me l'ho creduto ma ha preso in pieno me ecco la zampa è andata vai 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 che si apre sopra guardate lì eh ma dai infatti non riesco a prenderlo da davanti dai che ci siamo quasi sì io ho 20 80 no 80 colpi di un'arma e 12 di un'altra eh vabbè meglio di niente oh mi puntano ah pure le granate che rimbalzano di lato perfetto è che qui c'è da cambiare tattica ragazzi c'è da mettersi proprio di lato perché sono rimaste le zampe dietro quindi quelle sono difficili da prendere eh vedi qua continua a spostarsi io intanto sono nell'angolo di la moto eh lo so ma purtroppo adesso non vorrei rischiare di venire no forse dovrei rientrare il rientro è automatico a 30 secondi mi pare anche meno però se viene il vostro compagno ovviamente vi può rianimare subito in questo caso però preferirei aspettare perché eh ma adesso ce la faccio ti faccio il mega la mega cosa della vita perché ho la super farà male la fu per cazzo eh spero ci muoio anch'io l'ho fatto ci sono morto e non è cambiato nulla quindi non so quanto consigliarti io gliel'ho tirata sulla zampa ma non è successo niente ecco adesso mi conta dio ragazzi è stato bellissimo eh Ale sono morto io ho tirato una granata bene abbiamo questi 23 secondi in cui potremmo osservare il gioco dalla visuale di Paolino e vedere come muore anche lui guarda lì come ti arriva ah no sono tatticissimo ma mi arriva in faccia una centra ma ce l'hai solo con me brutto figlio di Gran Proia ah ah siamo più fiori qua per metterla così eh manca davvero poco comunque quindi cerchiamo di non morirci adesso stai morendo o no dai porca miseria tipo se io gli giro intorno ho trovato un angolino dove mi vede subito nooo oh è andata bene qui non arrivano manco i missili finito quasi tutti i colpi eh vabbè qualcuno è morto laggiù chi è morto? eh Bartek no eh mi ha ammazzato non morire ti prego non morire ti prego guarda sto qua fermo e aspetto che tornavi qui eh rimani lì 25 secondi ragazzi questo è il e ma guarda la mia visuale non so se vedi colpi ho 7 colpi poi ho finito tutti i colpi delle armi non ti affacciare per carità no no sto qua io come sei carino così no basta che è tornato in vita posso affacciarmi è che sono rimaste quelle zampe lì e sta sempre girata dalla parte opposta io ho bisogno colpi ragazzi raccogliete colpi perché se no l'intelligenza artificiale comunque è davvero ben strutturata quindi ci verranno del filo da torcere merda guarda uno sputo di vita gli è rimasto io sto rischiando parecchio di rimorire quindi imparatevi perché sì ma adesso io gli sto oh ma ha visto ma ha visto ma ha visto aiuto 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 quale zampa gli mancano io ne vedo più queste qui eccola là siamo vado giù con l'arma pesante no dai che mi manca veramente poco ragazzi ecco adesso mi punta vai che l'ho preso è morto grandissimo queste puoi intanto mi sta invitando qualcuno ma probabilmente ignorando il fatto che io stia registrando e morite bene bene ragazzi dopo un quarto d'ora che abbiamo combattuto e siamo rimasti in vita astenti io guarda proporrei una cosa per aver vinto no perché stai andando troppo avanti aspettami per aver vinto partiamo con il balletto della vittoria eccolo lì ragazzi la demenza senile ci sta logorando quello che sono più bella da vedere io quando ballo di te non offendermi lo sai qual è il punto? finché un altro rientro limitato è che qui c'è un altro boss chissà non l'avevo capito io sono sempre senza colpi niente penso che divideremo questo video in due parti ben tornati ragazzi sul canale di Daxxen ma va caricalo unico che te frega quello che dico io è che è immune ai miei colpi eh sì lo so all'inizio farà un po' così dopo tra poco muore cioè muore diventa normale perché sei come si dice positivo eh sì infatti speravo che morisse subito no anche questo ci vuole tanto ma se capissi quando posso sparargli ma anche perché ne ho pochi eh arrivano orde e orde di nemici e poi e vabbè un nemico ecco ah grande devi sparargli lì al centro su quella specie di piastrina ti consiglio più che altro di stare attento perché tra poco arriveranno parecchi capitani quelli con gli scudi quindi colpi finiti eh io ci sto vigino sono proprio finiti eh ragazzi però se la ve la smettete un attimo tanto mi sa che i volpi spero che siano unici per tutti eh mi sa di no perché io non ho preso un bel niente che lo cicchinerò un po' visto che gli faccio 392 di danno cosa ti teletrasporti cosa che tanto perdi può essere positivi ah già ma mi stanno sparando da tutte le parti ragazzi miei luca c'è qua colpi c'è un cazzo ah io qualcosa sto prendendo spero non lo so beh qualcosa ho preso anch'io ok ah bene proprio qua sopra desidera? si si è giuntile il ragazzo mi piace ma non compro nulla gli ho tirato una granata proprio al prossimo ho dato io voglio provare a tirarvi da super proprio su quel cerchietto eh l'ho provato io adesso ma non si arriva il mio si però non gli ha tolto una minchia usate il linguaggio ogni tanto ma ci vuole perché se no non so dove minchia sto volando ma va bene così ok colpi da cecchino finiti ecco arriva la nave con i rinforzi giusto perché eravamo in vantaggio capito? eh capito è contro uno dicono no così si può separare troppie munizioni e troppe uccisioni un po' di buzza ok faccio separare lì sulla porta si allontra farà quelle palline che ti fanno saltare per aria oh porca miseria ragazzi però dovresti venire a darmi una mano eh io c'ho un problema qua sotto un po' particolare sono circondato da nemici sono andato da capitani con gli scudi ok vabbè ho capito ci vediamo ottimo ottimo colpi per il cecchino ottimo ma dove minchia vado vado c'è gente qua oh io continuo a fargli 392 lì in mezzo adesso no non ci ho preso eh sto per morire è rimasto solo un colpo penso che lo userò io sto raccogliendo colpi come se non ci fosse un domani eh peccato che sono individuali oh porca miseria altri capitani finlus intanto questo è andato oh raccogli tutto ragazzo ottimo per il cecco chiamato in amicizia ho trovato l'arma barone rs2a non hai sentito bene bene dai 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 che c'è ok c'è davvero lunga eh quindi eh sì io adesso prendo un'arma pesante che ho trovato dei colpi pochi questi mi sono passati davanti non se ne sono accorti che ero dietro di loro è successo anche a me purtroppo sono concentrati su me e berserk e io vi do una mano dalle retrovie muori 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 puoi misocchiato dai affaccia no ce l'ha con me colping devo ricaricare quelle palline mi fanno davvero male che cosa ti teletrasporti basta ho tirato la super a vuoto no io l'ho preso dai che è morto dai che è morto dai che muore vedo dura muori porca miseria no sto per morire no io sono morto mi è arrivato un capitano non l'ho visto eh lo so a me sta arrivando adesso addosso ma varte 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 stanno è andato è andato dal rumore sembrerebbe di sì figato sì che è andato sì che è andato aspetta c'è un'arma che posso raccogliere ma ho l'inventario pieno allunga la propria ombra farne una schifo ah ho passato il livello i diavoli caduti si indeboliranno ok i caduti sono ingegnosi e finì così questa missione ragazzi molto speriamo di non essere stati pallosi no no il gioco è questo quindi vi riportiamo esattamente quello che si può fare e niente dovremmo vedere un attimo una schermata di fine comunque ragazzi come avete potuto vedere magari spero vi sia da dire tutti anche voi però come come avete potuto vedere è divertente è bello e competitivo è molto di cooperazione cioè ragazzi è veramente assolutamente torno a ripetere come ho detto ieri come in tutti i video questo gioco se prende avete con chi giocarlo è il gioco che non leverete mai più dalla vostra ps4 xbox one quello che avete non lo leverete mai più anche perché promettono di supportarlo da qui a dieci anni quindi una volta all'anno una mega espansione che aggiungerà un nuovo mondo dei personaggi nuovi e delle nuove abilità lo skill tree dei tre presenti adesso e ogni tre mesi han detto che gli piacerebbe mettere fuori delle espansioni con nuove missioni nuove armi eccetera eccetera quindi c'è un grosso supporto stiamo andando alla cittadella? si ci sto andando per fare i saluti perché ci avviciniamo a un bel po' di tempo registrato e ragazzi che dire questo era questa era una delle missioni quindi manca ancora il multiplayer competitivo che vedrete dapprima sul canale sempre di Real Game Tribù e poi anche sul nostro e niente speriamo vi sia piaciuto il video speriamo che vi abbia comunque aiutati a farvi un'idea di quello che andrete a giocare come prodotto finale se ancora non avete avuto modo di provare la beta a noi sta piacendo e come noterete ci stiamo facendo un sacco di video e ne faremo altri sul gioco completo non so, te vuoi aggiungere qualcos'altro? intanto qui è la visuale in terza versione no abbiamo già detto tutto abbiamo detto del supporto abbiamo detto della fine della beta il 26 che ci sarà l'evento speciale dalle 2 orario americano quindi da noi sono le 14, 9 ore avanti da noi sono le 11 sera fino alle 9 del mattino daranno poi qualche cosa per il gioco da mettere dentro più nuove, più altre novità che annunceranno durante il gioco magari non lo so quindi per me vale veramente la pena prenderlo cioè è veramente divertente e additivo questo ragazzi più di farvelo vedere vedervi quanto ci divertiamo quanto può essere divertente in cooperativa non ho nient'altro da aggiungere vostro nome apposto quindi io mi metterei qui vicino al buon Paolino e arma sta armeggiando e tu, 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 proprio tu io vi saluterei con questo inchino aspetta che arrivo anch'io a salutare sto guardando un'arma che salutiamo con questo io no, con questo no, con questo no balletto questo ora vi saluto in posa ok tutti a sedere e ci vediamo ad un prossimo video ragazzi bella a tutti ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti